Eccoci alla fine del match, Torino-Inter 1-1, una partita brutta da parte dell'Inter che perde la potenziale testa della classifica, Nerazzurri che non dipendono più solo da loro stessi per arrivare a vincere lo scudetto, top e flop per quanto riguarda la partita di questa sera. Allora, per quanto riguarda i flop direi innanzitutto concedetemelo, dico Simone Inzaghi, una partita dove sbaglia secondo me la formazione iniziale, alcune scelte non sono state all'altezza, Torino che aveva capito subito come fermare i Nerazzurri e la sensazione che oltre al cambio degli interpreti non ci fosse un'idea diversa rispetto al classico 3-5-2 per provare a recuperare i risultati. È vero che comunque l'Inter qualche occasione l'ha avuta, ma l'Inter ha fatto oggettivamente troppo poco per provare a vincere la partita, senza contare che c'è un episodio molto dubbio in area di rigore Nerazzurra per un possibile rigore nel contatto tra Ranocchia e Belotti. Oltre a Simone Inzaghi per quanto riguarda il flop, vanno aggiunti due delle scelte di Simone Inzaghi. La prima è Ranocchia, Ranocchia che va in costante difficoltà su Belotti, non riesce mai ad anticiparlo, non riesce mai ovviamente ad alzare la linea difensiva e questo fa sì che il Torino più volte ha schiacciato l'Inter nella propria metà campo, soprattutto questo nel primo tempo. Oltre a lui, proprio nell'asse centrale Nerazzurra, Vecino in mezzo al campo, troppo schiacciato alla difesa, recupera pochissimi palloni e riesce poco a far ripartire l'azione. I peggiori quindi sono Simone Inzaghi, Ranocchia e Vecino. Per quanto riguarda i top, mettiamo Sanchez per il gol fatto, assolutamente un gol comunque importante per un giocatore forse entrato troppo tardi e poi c'è veramente poco altro da dire. Sì, possiamo parlare abbastanza bene di Gossens quando è entrato, possiamo pensare a magari Skriniar che comunque fa la sua solita buona partita, ma poco poco altro. Da aggiungere per quanto riguarda i flop, è vero che Lautaro tocca pochissimi palloni e Dzeko fa più parte dell'azione, però anche gli errori sottoporta di Dzeko hanno pesato tantissimo e non sono accettabili in questo punto della stagione. Quindi ricapitoliamo. Per quanto riguarda i top, sono Alexi Sanchez e Skriniar insieme a Gossens. Per quanto riguarda i flop, invece, Simone Inzaghi, Ranocchia, Vecino e Dzeko.